Se da un lato il 2-0, piuttosto agevole, di Milano sul Reggio Emilia addolcisce un po' la pillola, è altrettanto vero che le difficoltà e gli infortuni della Grissinbon, letteralmente dominata dall'Armani, aumentano il rammarico per la beffarda eliminazione e la ghiotta occasione persa. Ora comunque la serie, che sembra già segnata, si sposta al Palabigi e chissà che i rossi di Menetti non siano in grado di riaprirla, ma la Sidigas ha fatto appieno il suo dovere, forse qualcosina in più. La città le ha tributato il giusto omaggio e dopo i ringraziamenti, i saluti di rito, è già tempo di pensare al futuro. La conferma anticipata del DS Alberani e di Coccia Sacripanti, aggiunta alla passione e la puntualità del patron De Cesare, lascia non ben sperare. La premiazione in comune ha palesato unità di intenti e progetti ambiziosi. Avellino rientrerà in Europa dalla porta principale e con ogni probabilità parteciperà alla Champions League del basket, competizione seconda solo all'Eurolega, cui accederà solo all'Olimpia grazie alla sua licenza decennale. Nonostante l'appeal continentale, però, come nel destino dei piccoli club, i lupi perderanno alcune delle loro stelle più brillanti. Nannali e Buva, due dei principali protagonisti della straordinaria cavalcata appena conclusa, monetizzeranno altrove e da buon ragione la loro incredibile stagione. Il primo culla addirittura il sogno dell'NBA. Il secondo è lusingato dalle sirene incantatrici di club russi e turchi. E allora la compagine irpina cercherà almeno di trattenere Ragland e Cervi. L'asse play pivot della formazione bianco-verde avrebbe richieste importanti all'estero, ma per loro in Italia esisterebbe ormai solo la scandone. Tutto ok invece per Grinnelli Unen, mentre si riflette su Veikala Seppini. Addio scontato per Aker da valutare la situazione dei giovani, solo indiscrezioni per carità, perché è davvero molto presto.